Bene, iniziamo. Benvenuti a tutti. In questa giornata quasi prefestiva, vista l'incidenza del primo maggio, quello che vogliamo vedere insieme a voi oggi è un po' la proposizione Alcatel Lucent Enterprise e dare una semplificazione di tutta quella serie di algoritmi e acronimi che sentite da SDN a IF, Intelligent Fabric e quant'altro. Il mio nome è Marco Piazzalunga e faccio parte del team che si occupa delle soluzioni Data Networking di Alcatel Lucent Enterprise. Molti di voi mi conoscono, però era doveroso presentarmi ai nuovi. Bene, prima di addentrarci in quella che è la proposizione Alcatel Lucent, andiamo a vedere quelli che sono i driver del mercato, quindi quali sono le richieste del mercato lato utilizzatori e lato IT, per poter poi quindi capire qual è la proposizione che andremo ad implementare o stiamo andando a implementare. Beh, uno dei driver di mercato è sicuramente il concetto di mobility o agility, quindi la possibilità di poter usufruire delle proprie risorse aziendali ovunque ci si trovi. La media europea è di circa tre dispositivi per utente e se guardiamo sulla nostra scrivania in realtà ci accorgiamo che più o meno ci siamo. All'interno dei nostri smartphone poi, potete verificare in questo momento, abbiamo una miriade di app installate, circa una quarantina. Di queste app molte magari non le usiamo, ma quelle poche che usiamo vediamo che richiedono una mole sempre più considerevole di dati. Pensiamo ad esempio alla parte di video, di fotografie e di video. Non ultimo, in questi giorni, ecco che appare una nuova applicazione collegata al mondo di Twitter, quindi Periscope che cosa fa? Trasmette in real time tutta una serie di contenuti, quindi una sorta di video reporter in real time. Tutto questo chiaramente richiede sempre più banda, sempre più qualità del servizio sulla rete che andiamo ad utilizzare. A fianco a quelle che sono le richieste dell'atto diciamo dell'utilizzatore, c'è una richiesta sempre più pressante di quella che è la parte di data center. La famosa sala server è evoluta chiaramente in un concetto di, in prima battuta di virtualizzazione, in seconda battuta chiaramente di cloud. Tutto questo cosa ha portato? tutto questo cosa ha portato? Ad avere dei, ad un lato server e lato storage, sempre più flessibile e sempre più performante, pensiamo ad esempio all'implementazione delle virtual machine, ma lasciando indietro quella che è la componente networking, che si considera che la vita media di un'infrastruttura di rete in Italia sia circa di 10 anni e quindi chiaramente negli ultimi 10 anni non si è più in grado al momento di tenere al passo con la richiesta sempre più stringente, ad esempio di porte 10 giga, di porte a 40 giga. Tutto questo accompagnato chiaramente dal concetto di limitazione del budget. Si pensa ad esempio che il budget che hanno le varie aziende, circa l'83% di questo budget sia destinato di fatto a conservare quello che è l'attuale infrastruttura in essere. Quindi di fatto rimane relegato a un 17% la possibilità di andare a implementare nuovi progetti. Di questi progetti il tempo medio è di 4 mesi e questo vuol dire che circa il 90% dei progetti vengono quanto meno ritardati e nella peggiore delle ipotesi cancellati. Quindi Alcatel Luscent Enterprise cosa si propone di fare? Di analizzare questi driver di mercato e quindi di fornire una soluzione che va incontro a quelle che sono l'esigenza del cliente, quindi trasformare l'esperienza dell'utente in quello che è la nostra possibilità di business. Abbracciando questi tre pilastri che sono il concetto di user experience, il concetto di virtualizzazione e il concetto di analisi di quelle che sono i big data, quindi le informazioni che abbiamo a disposizione e fare delle predizioni di quelle che potrebbero essere le esigenze della mia rete. In termini di Alcatel Luscent Enterprise tutto questo diventa Unified Access, Intelligent Fabric e Analytics che sono i tre pillars della nostra proposizione in ambito Data Networking. Per quanto riguarda Unified Access è un po' il trend che magari qualcuno di voi ha già sentito perché è già da qualche mese che ne stiamo parlando relativamente anche ai nostri prodotti. Il concetto di Unified Access è quello di avere un accesso unificato come dice esattamente la frase, in modo da non discriminare più dal tipo di collegamento, quindi collegamento LAN o collegamento wireless LAN, ma quello di attivare tutta una serie di profili legati all'utente e non al collegamento. Quindi io, Marco Piazzolunga, quando mi collego alla mia rete aziendale, indipendentemente che lo faccia tramite il wifi, che lo faccia tramite il cavo di rete, vengo profilato all'interno della mia azienda come un dipendente e quindi con accesso alle risorse aziendali. questo è un esempio per cui l'utente una volta identificato come un impiegato tramite ovviamente le credenziali che vanno dall'802.1x alla parte di Captive Portal, ecco che è abilitato a tutte quelle serie di applicativi aziendali, di business, applicativi che ovviamente ritrova esattamente se scollegando il cavo di rete passa alla parte wireless, piuttosto che da una location va ad un'altra location, sempre all'interno della mia infrastruttura aziendale. La gestione degli utenti guest o temporanei chiaramente segue le stesse regole per cui potrei dire che una volta profilato o comunque all'interno della mia rete, l'utente guest ad esempio ha accesso a un sito ma non ha accesso al sito ad esempio di Roma. e ovviamente il tutto anche in ottica di preservare la rete da eventuali minacce o utenti non autorizzati. Ok, abbiamo visto per quanto riguarda l'accesso, chiaramente lo step successivo è quello di poter andare a discriminare qual è il traffico che gira sulla mia rete, abbiamo traffico consumer, abbiamo traffico business chiaramente quindi passare da una visione senza visibilità degli applicativi a una visione che vediamo nella parte destra del riquadro in cui riesco a evidenziare quali sono i miei applicativi che girano all'interno della mia infrastruttura di rete, mi permette anche di fare una sorta di firewall a livello 7 per cui le applicazioni di business avranno ovviamente alta qualità del servizio e alta priorità. Magari le applicazioni personali le comunque permetto ma limito in banda, in qualità e alcune applicazioni potrei addirittura bloccarle come ad esempio torrent che si sa va a richiedere una grande quantità di banda sulla mia rete. Dal punto di vista implementativo abbiamo che cosa? I due pilastri fondamentali che è la parte di accesso, accesso sulla parte di destra vedete il controller per gestire gli access point qualora non utilizzi la versione virtual controller e sulla parte di sinistra ovviamente la parte di accesso LAN. Il tutto viene gestito da un'unica interfaccia grafica ad un unico applicativo che è il nostro Omnivista 2005 basato su web 2.0 che quindi mi permette di monitorare e gestire l'accesso di tutti i miei utenti indipendentemente dall'infrastruttura che vado ad utilizzare. Quindi posso fare un application monitoring, posso andare quindi a filtrare il traffico, posso fare anche delle analisi del traffico. A tutto questo si aggiunge la parte di ClearPass che va ad automatizzare tutta una serie di funzionalità che vanno dal concetto di bring your own device al concetto di host integrity check. Con la parte di ClearPass ci permette ad esempio di andare ad automatizzare il concetto di onboarding o bring your own device, dicevamo, per cui il portare il proprio dispositivo personale all'interno della mia rete aziendale viene automatizzato perché viene legato tramite un certificato a quello che è il mio profilo di utente nella rete. A questo punto passaggio successivo è la possibilità di attivare procedure di on guard o di controllo diciamo dello stato di salute del mio applicativo. Ad esempio prima di accedere alla rete verifico che l'antivirus sia attivo e sia aggiornato all'ultima versione altrimenti l'utente viene mandato in un sito cosiddetto di remediation dove può andare a scaricare l'aggiornamento e quindi completare questa politica di accesso. Oppure un monitoraggio in real time di quelli che sono gli applicativi o programmi che stanno girando sui pc dei vari utenti. Per cui ad esempio ancora una volta se vado ad attivare dei programmi non autorizzati ecco che il dispositivo viene disconnesso in modo logico diciamo dalla rete e appare un pop up dicendo attenzione state violando le policy di rete. Non solo ma questa infrastruttura si è fatta mi permette di creare delle reti diciamo personali o consumer all'interno della mia infrastruttura di rete. Ad esempio, un esempio potrebbe essere in un campus universitario la possibilità per ogni studente di poter collegare e interlavorare tra di loro vari dispositivi come ad esempio l'Apple TV piuttosto che l'iPhone. Quindi il concetto di fatto di AirPlay per quanto riguarda la soluzione di Apple e di LMA per quanto riguarda la soluzione di Samsung. Quindi una rete personale o consumer all'interno della infrastruttura di rete senza andare ad impattare sulle performance di questa e senza andare ad impattare con richieste verso il comparto IT. Andiamo a vedere i tre modelli che possiamo implementare con la nostra proposizione Unified Access. Il primo modello è pensato un po' per l'ambiente SMB quindi un po' l'entry level in cui abbiamo il 6450 come il nostro switch layer 3 light e la soluzione IAP, quindi Access Point con a bordo un virtual controller pensato per una soluzione in un singolo sito. Questi due apparati di fatto risolvono già tutta una serie di problematiche legate alla Unified Access nell'ambito SMB. quindi vado a profilare il mio utente vado ad abilitare politiche di qualità del servizio vado ad implementare le tre tipiche reti wireless quindi rete per i dipendenti, rete per la parte guest e rete per quanto riguarda il concetto di bring your own device. Da ricordare che la parte captive portal è presente sia sulla parte IAP sia sulla parte di switch di accesso quindi funzionalità diciamo web già all'interno dei nostri dispositivi. Chiaramente un'evoluzione è quella di all'aumentare l'ingrandimento della mia rete aziendale o in caso ad esempio di multisito vado ad aggiungere delle performance in più quindi lo switch si passa a 6860 che permette anche di fare app monitor e si passa ad esempio a una soluzione wireless LAN in CON CONTROL che mi permette di raggruppare sotto un unico dispositivo più siti diversamente dislocati il tutto gestito da un'unica interfaccia web che è Omnivista 2005. Quindi questo cosa mi permette di fare? In aggiunta a quello che già avevo nel modello precedente mi permette di andare a semplificare le operazioni appunto tramite il nostro Omnivista 2005 andare a aggiungere la componente di application visibility anche sulla parte diciamo di accesso LAN e basta. L'evoluzione, ultima evoluzione chiaramente l'aggiunta e l'abbiamo visto nelle slide precedenti della componente ClearPass. La componente ClearPass cosa aggiunge di più? il fatto di automatizzare queste tre funzionalità quindi la profilazione del mio dispositivo l'onboard, l'on guard e la parte diciamo guest sfruttando anche le componenti social. Ok, abbiamo visto la prima proposizione di Alcatel Lucent se non vi sono altre domande passiamo alla parte di ok, alla seconda argomento che è l'intelligent fabric intelligent fabric che è sicuramente una novità e l'andremo a l'abbiamo appena presentata all'Interop di Las Vegas ed è la novità appunto del 2015. cosa si intende per intelligent fabric? Beh, chiaramente al di là della parola appunto il poter dare un'intelligenza direttamente ai nostri apparati quindi in termini operativi una semplificazione di quella che è l'architettura una riduzione dei tempi operativi e di implementazione. Andiamo nel dettaglio il concetto è quello di avere a bordo in prima battuta del 6.900 quello che qualcuno di voi ha già visto quando parlavamo nella componente IP telefoni di Oxo e con 6450 quindi il concetto è di zero touch l'utente che magari non è così adentrato nella quella che è la proposizione di Alcatel Lucent non deve fare altro che togliere lo switch dall'imballo collegare le switch tra di loro ed ecco che in prima battuta i 6.900 tra di loro si vedono e si configurano. A questo punto essendo 6.900 delle macchine di core posso aggiungere altri switch di accesso switch che potrebbero essere di Alcatel Lucent o switch che potrebbero essere già in essere e quindi di altro vendo già operativi all'interno dell'azienda e poi anche la componente server ecco tutto questo viene configurato in modo automatico dai nostri 3.6009 chiaramente ho inserito dei server fisici gioco forza che all'interno di questi server fisici vado ad attivare delle virtual machine virtual machine che come ben visto prima quando si parla di proposizione application flow network di Alcatel Lucent vuol dire che ogni utente ogni dispositivo viene profilato esattamente come fosse una persona fisica quindi in questo caso non si parla di user network profile perché non utente ma di virtual network profile perché è legato alla macchina virtuale questo profilo cosa è? di fatto fornisce i 4 parametri di gestione delle virtual machine quindi qual è la vulana associata al server qual è la qualità del servizio che devo andare a implementare e quindi di conseguenza qual è la parte di ACL e di performance che devo andare a esigere cosa succede in caso di aggiunte o di spostamenti della mia infrastruttura di rete? beh nulla perché di fatto ancora una volta è la rete che va ad autoconfigurarsi quindi va a rilevare ad esempio l'aggiunta di un 6900 o va a rilevare l'aggiunta di un altro apparato di accesso in questo caso il 62660 cosa succede a contempo quando abbiamo uno spostamento di una macchina virtuale da un server fisico all'altro chiaramente in concertazione con la parte hypervisor tipica del mondo delle virtual machine ecco che anche a univista rileva questo spostamento e quindi va a spostare il virtual network profile associato alla macchina virtuale da una porta fisica alla porta fisica collegata al secondo server cosa succede in questo caso quando ad esempio c'è un guasto sulla rete per cui un collegamento viene interrotto chiaramente anche in questo caso la rete si autoregola e quindi fornisce un stradamento alternativo a quello che è il collegamento interrotto chiaramente i protocolli utilizzati sono altamente performanti non più basati chiaramente sullo spanning tree che richiederebbe troppo tempo per una riconfigurazione quindi di fatto è impercettibile lato utente questo discostamento della rete chiaramente il lato omnivista invece questo problema di rete viene monitorato rilevato e rilevato al compatto IT cosa succede ancora peggio qualora venisse scollegato non solo il collegamento ma anche lo switch di fatto ai fini dell'utilizzatore è nulla perché si utilizza sempre il collegamento di backup quindi un collegamento in alta fidabilità di fatto non va a abbattere quelle che sono le performance del mio sistema ecco l'abbiamo già introdotto prima la presenza di omnivista 2005 di fatto mi permette da un'unica interfaccia grafica di aver sotto controllo l'intera rete e quindi rilevare eventuali anomalie o disconnessioni della stessa quindi di fatto l'intelligent fabric cosa mi permette di fare faster deployment quindi velocità dal punto di vista dell'installazione della configurazione e del supporto perché di fatto dalla mia interfaccia di omnivista riesco a gestire l'intera rete dal punto di vista operativo beh abbiamo sicuramente una facilità dal punto di vista del design per chi si occupa come sottoscritto di prevendita quindi solution architect chiaramente non vado più a pensare a tutti i protocolli che devo andare a implementare ma vado a pensare alla sola architettura e requisiti in termini di densità e capacità di porte e capacità di switching dal punto di vista di chi va a implementare la rete anche in questo caso ancora meglio perché chiaramente non deve impararsi tutti i comandi via CLI o via dicendo di configurazione della rete e dal punto di vista della rete stessa chiaramente anche in questo caso una semplificazione di quelle che sono le operazioni quindi riassumendo l'intelligent fabric o il famoso acronimo IF cosa si propone di fare? di avere una facilità una semplificazione dal punto di vista del design quindi rivolto a chi fa la prevendita una facilità di chi fa la post vendita o diciamo la parte installativa una alta fidabilità della rete perché chiaramente una volta che vado a tirare i cavi di collegamento è la rete che si autoconfigura quindi crea dei link aggregation dei lag per dare alta fidabilità quindi in poche parole una facilità da punto di vista implementativo e progettuale e non ultimo come dicevamo prima abbiamo una news che è arrivata giusto giusto ieri fortuna vuole per cui come sapete parlavamo di best of interop che è la fiera che si tiene tutti gli anni a las vegas dove i vari vendor di soluzioni data networking portano chiaramente le loro proposizioni ecco giusto giusto ieri Alcatelus ha vinto il best of interop per quanto riguarda il networking proprio con la soluzione intelligent fabric quindi direi che non solo noi ci crediamo ma anche il mercato crede in questa nuova funzionalità per dovere di cronaca ricordo che il best of interop non è la prima volta che la soluzione Alcatelus lo vince ma l'ultima volta fu un paio di anni fa il best of interop nell'ambito data center con la soluzione pod e mesh quindi direi che ci siamo ultimo punto della nuova proposizione Alcatelus è la parte di analytics parte di analytics che già abbiamo visto introdotta in qualche slide precedente per analytics chiaramente è la nostra omnivista 2005 che diventa il punto focale della nostra implementazione in quanto mi permette tramite una dashboard che può essere personalizzata perché appunto pensata in ottica web 2.0 mi permette di andare a personalizzare i monitor quindi le interfacce grafiche che vogliono andare a evidenziare circa le performance della mia rete mi permette di creare dei report per vedere la statistica quindi l'andamento della mia rete mi permette di andare a evidenziare quali sono gli applicativi che girano sulla mia rete sia lato wireless che lato LAN dicevamo prima appunto con 6860 la soluzione access point di fatto riesco a monitorare tutto quello che è il traffico quindi traffico business con salesforce e crm vari traffico consumer con facebook twitter e via dicendo piuttosto che youtube quindi tutto il traffico e quindi posso andare a implementare anche delle politiche di firewalling e infine e non da poco una predizione quindi un tool proattivo che mi permette di basato ovviamente su un'analisi storica di vedere quali potrebbero essere i requisiti del mio sistema negli prossimi mesi nei prossimi anni quindi per un IT manager chiaramente questo permette anche di dare una certa enfasi a quelli che sono i budget e quindi alle progetti che si vogliono andare a implementare vediamo nel dettaglio come potrebbe essere un tipico esempio di implementazione di una struttura esistente tramite una soluzione Alcatel Lusen beh abbiamo detto ad esempio il driver di mercato è chiaramente la parte Wi-Fi se ci va bene il nostro cliente non ha ancora un Wi-Fi attivo o comunque magari un Wi-Fi che è a macchia di leopardo quindi localizzato tipicamente solo nelle sale conferenza o in altre zone diciamo strettamente riservate la prima implementazione che possiamo andare a fare è tramite la soluzione Instant Access Point o Access Point qualora si parla di un sito abbastanza grande andiamo ad attivare la parte di wireless o Wi-Fi secondo step è quello magari di andare ad aggiungere perché chiaramente gli Access Point devono essere alimentati un 6860 che fornisce il PUE Plus o se richiesto anche il PUE Plus plus quindi arriviamo a fino a 60W per porta e quindi 6860 mi fornisce da un lato la connettività verso la parte Access Point dall'altro mi attiva la parte di application monitoring della parte LAN a questo chiaramente sul lato destro vado ad aggiungere la parte di Omnivista 2005 Omnivista 2005 che sapete che fino a 10 dispositivi Alcatel Lucent e 10 dispositivi altro vendor di fatto viene fornito ad un prezzo simbolico di circa 1 euro quindi l'appetito viene mangiando fase 2 abbiamo ad esempio lo spostamento della parte di core andando a togliere una soluzione modulare a chassis che diventa chiaramente ingombrante sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista delle performance con una soluzione ad esempio virtual chassis con i6009 ricordiamo che il nostro i6009 nella nuova formula Q32 nuovo modello Q32 ha delle performance di tutto rispetto arriviamo ai 2,5 tera per macchina per macchina fisica in un'unità rect quindi nello step 2 suggeriremmo un i6009 in formato virtual chassis come core a quel punto come potete vedere sempre nella parte di nel quadrato al centro ho la virtualizzazione della parte server quindi non ho più una miriade di server fisici ma si può condensare a pochi server fisici e una miriade di virtual machine virtual machine che si va a interfacciarsi con la parte 6009 e quindi con la parte WMM del nostro omnivista la parte WMM di omnivista non fa altro che parlare con la parte hypervisor del virtual machine e quindi di concertazione come dicevamo prima lo spostamento di una macchina virtuale da un server fisico all'altro segue lo spostamento del virtual network profile da una porta fisica di un 6009 all'altro e infine terzo step è quello di poter andare a modificare anche quella che è la componente di accesso quindi un virtual chassis all'accesso fatto magari di 6860 che fornisce sicuramente un'aggiunta per quanto riguarda la parte di application monitoring e di performance perché a quel punto i miei uplink dall'accesso al core possono essere tutti a 10 giga 6860 fornisce 4 porte 10 giga e il 6009 fornisce fino a 128 porte a 10 giga o 32 porte a 40 giga a quel punto nel quadrante di destra quindi della parte di configurazione e monitoraggio chiaramente ho concentrato tutto sul mio 6009 sul mio omnivista 2005 quindi vado a sparire altri tool di gestione in esse chicca finale ovviamente l'introduzione dalla parte di clearpass per i concetti di automazione che dicevamo prima on board dei dispositivi in concetto di bring your own device e gestione degli utenti guest nostri analisti di mercato ci dicono che con la soluzione Alcatalus e Unified Access il ritorno degli investimenti è intorno ai due anni quindi chiaramente in un'ottica di costi ristretti chiaramente è un punto decisamente da considerare ok parliamo del futuro il futuro si parla molto di SDN o software defined network cos'è di fatto il concetto di avere un controller vendor independent in grado di gestire tutti i dispositivi di accesso nel mondo dati ecco tutti i nostri dispositivi 6860 6009 vi è dicendo hanno a bordo questi protocolli utilizzati per quanto riguarda la parte SDN quindi si parla di OpenFlow OpenStack non solo ma abbiamo anche software implementativi veri e propri linguaggi di programmazione come Python questo come protocolli supportati all'interno poi dell'ecosistema SDN chiaramente siamo certificati con i vari produttori sia in termini di interfacce di rete per l'ambito server sia in termini di interoperabilità con l'ambito di storage quindi in definitiva quali sono i tre punti fondamentali a seguito della chiacchierata di stamattina che vorrei vi ricordare che tramite la soluzione Alcatel Lucent possiamo implementare una certa agilità anche nella parte rete un'agilità intrinseca una semplificazione di quelle che sono le operazioni richieste al comparto IT e una migliore qualità e esperienza dell'utente quindi potremmo dire che a seguito dell'Alcatel Lucent dell'implementazione con prodotti di cui avete visto prima che magari potremmo entrare nel dettaglio una seconda sessione una prossima sessione ci permette di arrivare non solo a raggiungere storage e server ma magari anche a superare questi altri due corridoi prima di passare alle domande vi lascio come riferimento di nostri prodotti sia per quanto riguarda la parte Unified Access che Intelligent Fabric che Analytics il nostro sito o catalogo online dove potete attingere un maggiore dettaglio di quelle che sono i prodotti un maggiore dettaglio tecnico rispetto a quello che ci siamo detti stamattina Passerei quindi alle domande se avete qualche domanda qui in in sede o qualche domanda da remoto per qualche dettaglio in più a quanto abbiamo visto non abbiamo domande non so se spero di non avere tramortito nessuno con questa nostra presentazione vi ricordo qualora sorgessero dei dubbi potete chiaramente contattare la parte tecnica commerciale di EDS lan piuttosto che contattare me stesso marco piazzalunga a marco.piazzalunga chiocciola alcatel trattino lucent punto com penso che se non abbiamo altre domande vi ricordo che questa sessione per chi non ha potuto seguirla pieno è registrata e sarà disponibile sul sito di EDS lan nei prossimi giorni quindi anche se avete colleghi che non hanno potuto partecipare possono comunque rivedere il webinar in una seconda battuta con questo vi saluto vi lascio i nostri riferimenti chiaramente in ambito social su youtube potete vedere anche alcuni esempi implementativi nel concetto di virtual chassis intelligent fabbric e quant'altro e anche qualche videoclip divertente vi ricordo anche il canale linkedin molto attivo dove potete fare delle domande tecniche commerciali sempre sul nostro intero portfoglio quindi non solo la parte dati ma anche la parte di unified collaboration e quant'altro bene vi ringrazio ancora vi auguro una buona giornata e un buon chiaramente primo maggio visto che siamo in prossimità della festa più importante per i lavoratori grazie ancora e buon weekend grazie a tutti